Grazie mille, grazie a tutti. Anche il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo non poteva non essere presente a questa iniziativa, anche perché oggi come oggi riteniamo che tanti turisti girano il mondo e sono sempre più esploratori e di conseguenza hanno anche la voglia di conoscere cose nuove e cose diverse. Quindi l'Italia non poteva non essere presente, non poteva non partecipare con un prodotto innovativo sul mercato del turismo. Infatti oltre alla consueta promozione delle iniziative legate ai 500 anni di Leonardo abbiamo deciso di costruire, di creare un'app che sarà Leonardo 500, che è un'app ad hoc, un'app che potrà essere scaricata su qualsiasi telefono, su qualsiasi tablet, in modo tale che i potenziali turisti possano tranquillamente, sia italiani che stranieri, possano tranquillamente controllare in tempo reale quelle che sono tutte le iniziative che si terranno sul territorio nazionale. Sarà un'app dove saranno indicate con un semplice click, si potranno scoprire le iniziative, come dicevo, tutte le iniziative, i luoghi dove si terranno queste iniziative con gli orari di apertura e gli orari di chiusura, le modalità per raggiungere il luogo, proprio perché la maggior parte dei turisti arrivano comunque sicuramente da altre parti del mondo e hanno bisogno di avere maggiori informazioni, e poi anche il sito web dell'ente o della società che organizza in quel momento quell'evento. Quindi sarà un'app completa, sarà un'app non statica, ecco, perché ci sarà comunque una redazione che lavorerà 365 giorni praticamente sull'aggiornamento dell'applicazione, quindi se ci saranno tutte le volte che ci saranno delle iniziative create da privati, da enti, ma anche dagli enti locali, verranno caricate sull'app, e la cosa importante è che l'app sarà in più lingue, in modo da permettere a tutti, logicamente, di poterne usufruire. Dico semplicemente due cose che ritengo importanti, ma anche abbastanza curiose, perché tutti noi conosciamo Leonardo come un genio, conosciamo Leonardo come un architetto, come un ingegnere, come un artista. Leonardo è anche l'esempio di questo ministero, perché Leonardo è stato anche un cuoco. Fin da piccolo Leonardo aveva la passione della cucina e scriveva ricette utilizzando spezie che ai tempi erano all'avanguardia. Leonardo è stato anche un agricoltore. Nel 1499, dopo aver dipinto l'ultima cena, Ludovico il Moro gli regalò una vigna, ed sono note le lettere che Leonardo scrive al suo contadino, perché Leonardo studiava come migliorare la produzione di quella vigna. Quindi era già all'avanguardia rispetto a quello che pensiamo sia l'agricoltura. Leonardo era anche, se guardate nel dipinto dell'ultima cena, è stato il primo a mettere i tovaglioli in un'opera d'arte, e di conseguenza se pensate alle scuole del turismo e se pensate a tutti i ragazzi che in questo momento stanno diventando operatori di sala, Leonardo è stato anche un antesignano sotto questo punto di vista. E poi, soprattutto, Leonardo è stato un grandissimo viaggiatore. È stato un viaggiatore, una persona che amava scoprire luoghi nuovi, scoprire nuove civiltà, scoprire nuove persone, e cibarsi di quelle che erano le conoscenze, cibarsi di quelle che erano le attività e i panorami dei luoghi dove visitava. E di conseguenza il MIPAFT non poteva non essere presente. Grazie.